Previsioni per il weekend. Il pomeriggio di oggi sarà caratterizzato da pioggia anche di forte intensità, schiarite solo a partire dalle prime ore della sera. Venti prevalentemente moderati, temperature comprese tra una minima di 3 gradi e una massima di 7. Nubi intense anche nella giornata di domenica, che tuttavia non dovrebbero dare luogo a precipitazioni se non a partire dalla tarda serata. Venti deboli, temperature in lieve rialzo.